Gormiti! Muovetevi, lumaconi! Guardate che cosa ho trovato! Oh, che cos'è quello? Come fa a stare sospeso? Sol ha detto che i Solark vanno matti per l'equilibrio. Ad ogni modo, ora dobbiamo riuscire a entrare lì dentro. C'è nessuno! Aprite! Fateci entrare subito! Reef, non... Stupido ammasso di roccia! Io ti... Reef, calmati! Guarda! Scintille Alpha! Ma come ci sei riuscita? In verità, non ne ho idea. È meglio se ce ne andiamo da qui. Aspetta, succede qualcosa. Eh? Wow, come ci siamo finiti qui dentro? A quanto pare Aoki ci ha fatto entrare. Non riesco a capire. L'energia Alpha è scomparsa. E il mio guanto è completamente fuori uso. Fuori due. Fuori tre! Beh, io invece ho ancora i poteri del magma. Oh, che cosa succede? Reef, che cosa hai fatto? Oh! Ragazzi, quello lì... Quello lì è un guerriero Solark! Oh! Per un attimo ho avuto pausa. Silenzio! Chi siete voi? E perché siete venuti fin qui? Wow, ho di nuovo paura. Che ti credi di essere per rivolgerti a me e ai miei amici in quel modo? Io sono Palladium, campione Solark. Guerriero dell'ordine e dell'equilibrio. Tu e quei ladroncoli dei tuoi amici avete rubato i frammenti del cuore del titano. Riconsegnateli immediatamente. Noi non siamo dei ladri, siamo i guardiani di Gorm. E ho girato come un folle in lungo e largo per quest'isola assurda alla ricerca di tutti i pezzi di quel cuore assurdo. Guardati intorno, guardiano di Gorm. È evidente che non sei in grado di gestire tutto questo potere. Consegnami immediatamente i frammenti di magma. Riff, dovresti dargli i frammenti. Così vuoi fare il prepotente con me, eh? Vediamo un po' come te la cavi con qualcuno della tua stazza. Sta per evocare un lord per conto suo. Non ce la farà. Ha bisogno di noi per concentrarsi. Amico, lui non ha bisogno di nessuno. Guarda quanto potere ha ottenuto dei quattro frammenti del magma. È troppo potere. Gormiti, potenza degli elementi! Energia del magma! Combatti! Carion! Carion, il magma! Il magma trionfa sempre! Guardiano, in che luogo ci troviamo? Lord dei Gormiti, stai indietro! Questo è un ordine! Al riparo! Carion! 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 Grazie a tutti.